Dal prossimo luglio si inizierà a pagare il Canone TV 2016. La quota pari a 100 euro sarà debitata direttamente nella bolletta elettrica. Soltanto per quest'anno si pagherà una prima maxirata di 70 euro, tutta sulla bolletta di luglio. Poi si pagheranno 10 euro al mese. Dal prossimo anno si pagherà da gennaio a ottobre. Dal momento che le bollette sono quasi tutte bimestrali, vuol dire 20 euro a bolletta. Non tutti però sono tenuti a pagamento della tassa. Esente dal pagamento del Canone Rai chi non ha in casa un apparecchio TV, chi ha un reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi, che ha più di 75 anni. È importante ricordare che il Canone segue l'indirizzo di residenza, quindi non si paga per la seconda casa, né pagano gli studenti o lavoratori fuorisede che hanno ancora la residenza presso i genitori o nel nucleo familiare principale. L'essenzione però non è automatica, occorre comunicarla all'Agenzia delle Entrate. L'ultima legge di stabilità aveva anticipato la pubblicazione di un apposito modello necessario per autocertificare la non detenzione della televisione, cosa che è avvenuta solo da qualche giorno. Si consiglia a chi avesse già presentato un modello non ufficiale di ripresentare quello diffuso dall'Agenzia delle Entrate. Il modello di autogertificazione potrà essere utilizzato anche da chi intende segnalare che il Canone per il nucleo familiare è già intestato a un soggetto diverso dall'intestatario della bolletta elettrica. Perché l'essenzione sia ritenuta valida per tutto il 2016, il modello dovrà essere inviato telematicamente entro il 10 maggio 2016. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico è previsto entro il 30 aprile la presentazione del modello tramite raccomandata andato-ritorno, insieme a un valido documento di riconoscimento senza busta all'indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, Sat, Sportello Abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10, 121 Torino. E' possibile anche rivolgersi al CAF. Le dichiarazioni inviate dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 serveranno per esentarsi dal pagare il Canone nel 2017.